Due ragazzi che stanno pescando e hanno visto questa macchina, hanno avvisato noi che poi abbiamo chiamato, un nostro collaboratore socio ha chiamato la polizia, sono intervenuti, hanno visto questa macchina che non so come sia arrivata, coperta dalla legna, sarà arrivata giù per il po' o non so. Grazie a tutti. Grazie a tutti.